Quasi pronti Dici Meglio di così? Ecco Solo che noi non andremo a notare ma... Faremo un giurista in bici Ciao 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 Ed eccoci qua Mercatino di pesce appena pescato Oh ma questi ci vuole un sacco di tempo per cucinarli? Eh? Ci vuole tanto tempo per cucinare questi Eh lavarli tutto qua Cucinarli no Quasi ne vado con lo spazzolino Tutta la cosa che c'è Ma che cos'è la stella? Si Che carina C'è una grande lì aspetta Però quella è andata Allora Allora via la vidanghezza Pranzetto in libertà Che si mangia oggi? Grigliata mista Grigliata mista Cominciamo con il capessante Antipasto capessanta Caramari freschi Poi c'è la seppia Poi c'è la massancolle Poi c'è la solula Poi c'è il sgombolo Un po' di tutto Bene Buon appetito Grazie 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 Grazie